Dobbiamo rischiare di più, dobbiamo segnare, dobbiamo fare i tre punti che ci abbiamo bisogno, ci è mancato questa sera. Nella fine conto i punti, noi gol fatti, se vinciamo tutti 1-0 siamo campioni, siamo da Scudetto, quindi importo i punti fatti, non i gol fatti. Questa partita vi dà maggiore confidenza per lo Scudetto? Sì, era una partita difficile, quindi credo che abbiamo fatto bene e questo ci dà carica per la prossima partita contro Palermo.